Sarà lutto cittadino sabato a Gorizia dopo il crollo della palazzina dove sono morte tre persone. La decisione è stata presa dal comune. Sabato sarà esposta alla bandiera mezzasta, detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che ha escluso che all'origine della tragedia ci possa essere il malfunzionamento della rete di fornitura del gas metano. La magistratura indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. I vigili del fuoco stanno operando con una squadra che sta continuando nell'azione di smassamento delle macerie, abbattendo anche i muri perimetrali pericolanti, mentre un'altra squadra investigativa sta raccogliendo materiale e prove per stabilire le cause della tragedia costata la vita a tre persone. La 43enne Sabrina Trapari e il suo compagno originario della Slovenia, il 45enne Mika Ursic, e Fabrizio Facchettin, 50 anni, disabile, che abitava al primo piano. Le indagini proseguono nel massimo riservo, ma proprio su Fabrizio Facchettin si assomano in queste ore i principali sospetti, soprattutto alla luce di alcuni suoi comportamenti divenuti negli ultimi tempi sempre più preoccupanti. L'uomo infatti ex camionista era in cura al centro di salute mentale e si era fissato su alcuni numeri che si era anche fatto tatuare sul corpo, tra cui il 619 che potrebbe essere letto come la data in cui si è verificata la tragedia. Aveva aperto un profilo sui social in cui si faceva chiamare Fabrix Arcangelo o Fabrix 619. Inoltre sembra che alcuni tubi del gas nell'appartamento risultino tagliati e si dovrà verificare se questa sia la causa o la conseguenza dell'esplosione, che potrebbe quindi essere stata scatenata da un gesto volontario costato la vita. I due inquilini del piano superiore della palazzina, Sabrina Trapani, era di Caorle, e si era trasferita a Gorizia con il suo compagno Micha Urzic, sloveno, sono stati sorpresi nel sonno, uccisi dalla deflagrazione, forse senza nemmeno essersi accorti di quel che stava accadendo.